Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Demos Repubblica di oggi, sabato 12 novembre 2022. Giorgia Miloni dimostra un consenso solido e in crescita anche sul piano personale. La fiducia nei suoi riguardi sfiora il 60%, sei punti in più rispetto al mese precedente e 15% più di Giuseppe Conte tra gli altri leader che si trova al 45%, Emma Bonino al 40%, Antonio Tajani dietro con Salvini sono al 35%, Salvini in risalita e poi abbiamo tutti gli altri che seguono poi Letta, Calenda e Angelo Bonelli, Nicola Fratoiani, tutti sotto il 15%. Intanto vediamo che il gradimento del governo è al 55%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.